Puoi coprirlo, sì con Dario, saprai farlo, sì con Frank Ma rega dobbiamo imbiancare No, no, ti ha spaccarito come, Dario? Ma tu che esperienze hai nell'arte del ricoprimento? Allora io ho fatto 5 anni da falegname nella foresta amazzonica Ho abbattuto diversi alberi Ma danno, poveri alberi Non so, però è lavoro, è lavoro Ma quello è scoprimento Eh vabbè ragazzi, è lavoro Mi ha detto ti paghiamo per disboscare Ma cosa state facendo? È lunghissimo, rega, incredibile Ma com'è lunghissimo? È lunghissimo È una bestia Rega guarda Ma non è lungo Stanno proprio tutta la casa Ma oh, oh, sono caduti i miei piani Non facciamo danni, signori, piano Dai ragazzi Hai più spazio a Dario che qua se ne è ancora Dai ragazzi Alza fino all'angolino Dai ragazzi Dario vai in punta di piedi Io ho 60 po' e sparco tutto Vai 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 Guarda bene Tira su, tira su Allora io faccio il vecchio del cantino Non si fa così Passami bene la scocciatura Non si fa così Passami bene la scossa Guarda solo sai Ti guardo Certo Nick che non si fa così Diggielo Ci sono un umarello Eh un umarello E l'umarello che dici Ci sono un umarello Passami bene la scossa Guarda solo con quello Eh? Questo lo vedi all'intorno Io non ho mai visto farlo così Dai Gianni passami la scossa Oh Si fa mica così sai Si fa mica così Si fa mica così Da volte facevano diversamente Ehi Guarda che voglio far notare il dettaglio Si facevano diversamente i miei tempi Vai Qua è chiuso Lo facevano con la ghisa lo facevano Adesso mi sposto Ma no Vedi che va bene a casa Diggielo Guarda che va bene a casa Diggielo Guarda bene che mi sposto Fai un bel piano di tortellina Mamma Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Ma non si fa mica così Lavori Dai So Sono tutto scoperchiato Comunque Nick che saresti un umarello perfetto Cioè veramente Eh Fai quello nella vita Fatti pagare Ma cosa dici Ma non Potremmo comprare di meno rega Meno? Ma come Frank? Eh ma E non mi basti Ma quante ne abbiamo? Una mare A me ci copriamo 8 carri Ma mettiamolo tutto Eh copriamo un'intera città Piace Bella idea Frank E in tutto questo è bellissimo che Cesare non sa cosa fare Quindi tocca Tocca il telo Non sapendo cosa stai facendo Cosa stai facendo di preciso No con i tuoi denti Guardate ragazzi è completamente perso A me Ashtola Ashtola Dai Gianni Metti la sconciatura Va Franco Franco? Dai Franco Con la sconciatura No Mannaggia C'è andato Gianni Puttana Cosa hai fatto? No No Fa vedere il danno Fa vedere il danno Ma dov'è il capocantiere qua? Ma chi è il capocantiere? Ma cos'è? Ma cos'hai fatto Cesare? Calghe 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 Ma cosa serve? Scale calghe calghe Facciamo del polleggio eh Facciamo del polleggio Dai 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 Sicuro adesso non ci 추itic questo cade Oddio 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 Non c'era il vien Vienerlo Ticendoare il TV Che è il bel ascociatura I franchi Se volete un lavoro ben fatto Non chiamate i franchi Poi per fare questa puntata abbiamo comprato degli occhiali da ciclista Non so per quale motivo Il fatto è che faccio l'unboxing E anche la prova Ma c'hai la forza D'un ratto Ma c'hai la forza d'un criceto Notare il modello sportivo Questo modello falegname del 2008 L'ho visto Ma Sosa ma sei bellissimo Ma che stilo Grazie Sei proprio stiloso Mi sembra di essere quasi a Brisighella la fashion week La fashion week di Brisighella Esattamente quella Ma che bello Per fare una puntata con i cocomeri servono i cocomeri Frank ora spiegheremo al pubblico a casa Che strumenti servono Per fare una puntata sui cocomeri Che però specifichiamo non possono replicare a casa Si può solo fare nella valle spaziale Ok Allora servono Dei guanti Dieci Ne abbiamo solo quattro Frank Hai capito quattro Guanti Arriva l'altro Che si è già messo nel ruolo Vabbè servono dei guanti Occhialini Che già sta indossando Dario Fali vedere Dario Alza un po' la testina Aspetta bene Ma vabbè servono dei guanti Non soffre mica qua eh Un martello Un seghetto Un trapano Un seghetto più grande Un altro trapano Scumenti Delle pinze Un martello Un altro Ecco qua Due Si sa mai Si sa mai Un cacciavite Un martello Un martello Un altro martello Siamo a quattro martelli Mi sorge una domanda Vedendo queste punte Ma secondo voi Quante punte di trapano Ci stanno nel buco del Vorrebbe una cintura Per gli attrezzi Non ce l'abbiamo Abbiamo tutto tranne quella Mi dispiace Frank Mi dispiace E soprattutto ragazzi Serve tanta Ma tanta Creatività Fantasia era la parola Vabbè Vabbè ok È la stessa cosa Fanta Creatività 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 Cesare penso di aver avuto Un'idea geniale Ha detto mettiamoci le tute Ma perché quelle Dell'altra volta Erano molto più No però in realtà Non si vede che hai solo Sotto le mutande Ma allora sembra Un vestito Traspareno Ragazzi qua sotto Il cesarino è nudo Facci vedere Madonna che peli Eeeh Si e sai tonno Ma non mi dovevi fare una foto No Io sono in posa Da tipo mezz'ora Questo è il backstage Prima della rottura Dei cocomeri E cosa devo fare Devo rimanere fermo Per la foto Devo muoverti Devi rimanere fermo Per la foto E muoverti Per il backstage Quindi vedi un po' tu Ho resa una gif animata Ho appena assaggiato Un pezzo di anguria Che vabbè Aveva toccato Gli strumenti Quindi era piena di germi Come vi dice Frank Però era Ottima L'alto è cattiva Piro difficile Qui siamo pieni di budelle Sul tavolo Ti prego di venire a vedere La condizione da Cesare Più che da me Che ci sono Sotto sotto il tavolo Più da me Che c'è il lago Da lui ci sono anche Dei bei piedi Cioè questa è la condizione In cui dobbiamo fare i video Un troll Cesare il tuo calzizio Ha finito un po' No Che schifo Ormai metti lì No Dai No 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 Facciamo i miei No No Dai Dario filma Che qua devo lanciare Un'anguria E se fa male Se va male La situazione Facciamo dei Big views Perché Dai rega Secondo te Dai che si spacca Si Ma guarda che si spacca Veramente tutto Si spacca Tira da più Guarda come sono tesi Che sentono il peso È tipo Fabio Grosso Ai rigori del 2006 Ti spacchi la schiena Se la frega Ma no Ma che responsabilità Ma dovevi mettere anche Ah Frank Te la sei presa a testa Responsabilità Vai Frank Buttati Oh Oddio Madonna la luce Hai colpito in pieno la luce Veramente Si ha fatto Stava per ribaltarsi tutto Te lo giuro Wow Che bello ragazzi Si pulisce No Ma che Eh signor Bic Un commento a caldo Dopo questa puntata Sono un po' provato Perché tutta questa anguria Mi dà la testa Questi zuccherini Mi fanno un po' ripassire Però Porca proia Sto Mi sto riprendendo Ma una cosa che non abbiamo capito Del personaggio di Bic Perché ha questa peluria Che spunta qua Cioè è una cosa voluta O è una cosa casuale No quella L'abbiamo trovata al supermercato Eh scusa Ce la faccio a vedere Che ha peluria da cinema Carina E niente Abbiamo di sviattaccarla Al signor Bic Che è il mio personaggio E non ha assolutamente 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 La peluria reale Perché è tutta finzione Cosa stai facendo? Squash squash Ma che schifo Ma Ma Cesare Scusa Ma ti diverti con poco te? Sì Però finalmente abbiamo visti i suoi piedi Quindi aveva la sola pese Oddio Io facevo anche a meno E li ho quasi toccati Ma che schifo E li ho tolto io E cazzino Ma vergognati Ma non è una cosa di cui vantarsi Ragazzi ognuno A parte il proprio corpo Che non è bellissimo Bisogna vergognarsi Bisogna accettarsi Per quanto si è E allora possiamo fare Un primo piano sui tuoi piedi da troll Sarebbe meglio di no Primo piano sui piedi da troll Me li stai nascondendo Non fare il timidino Non fanno il timidino Ognunque C'è sugo d'angulio Ognunque ragazzi Il gatto passa tra tutti i sacchetti No ma sono impermeabili No c'era un buco Eh sì c'era un buco Esattamente Sono tutti così Oh no rega Che casino Che danno Sì ragazzi però Dobbiamo pensarci prima Di fare sti video Che poi dobbiamo Praticamente ristrutturare tutto Ci vorrebbe Abbiamo speso 40 euro In cocomeri Scandese E adesso dobbiamo pure Rifare tutto 40 euro in cocomeri E 15 euro Per la tuta Le coperture 15 euro Se non sono servite Ma abbiamo badato A spese per questo video Boh ma anche se ho chiaro i piatti Certo perché adesso Spendiamo per sistemare Sì ma ragazzi perché Non dovete Cioè la gente È quando torno Ma la gente ci guarda male Quando Quando usciamo Quando usciamo Con dei sacchetti grossi Con i resti delle puntate Non possiamo far finta Di avere dei cadaveri Ma mi sembrava una gag Carina Ma non si può fare Ma me l'ha spalleggiata Fred Non è vero Ho solo detto acido Ma caspita No allora Avete parlato Con la serietà Più assoluta Di segare Delle gambe E di cose del genere Con delle persone Che ci vedevano Cosa pensa la gente Di noi Non si può A breve la polizia Dei backstage Ma non si può dire Chiudono il canale Vabbè Chiudiamo il backstage Ciao